Ah, ho acceso le luci apposta, sono molto contento, sono molto contento per il Matteo, sono molto contento del suo rinnovo, sono molto contento di una nuova firma in calce al suo DNA rossonero, perché questo è Matteo Gabbia. Di tutto questo naturalmente trovate ampio spazio su tutti i mezzi ufficiali del Milan, che sono molto orgogliosi, sono stati fatti adeguati e giusti teaser prima del rinnovo e naturalmente trovate tutto anche su www.milanistichannel.com Trovate nella descrizione del video il link www.milanistichannel.com Matteo Gabbia e Calulu. Io ricordo un mese di gennaio, due mesi di gennaio. Il mese di gennaio del 2022 e il mese di gennaio del 2024. Il mese di gennaio del 2022 era quello della ricerca di un centrocampista sul mercato da parte del Milan, perché era stato operato al legamento crociato del ginocchio Chiaer. Chiaer si era infortunato a inizio dicembre del 2021 in Genua-Milan. Vincemmo 3-0 ma perdemmo per l'infortunio al legamento crociato del ginocchio Chiaer. E quindi gennaio doveva essere il mese della ricerca a tutti i costi del nuovo difensore rossoneo. Ma ricordo una frase di Paolo Maldini prima di una partita del Milan in casa a San Siro. Ricordo a domanda di mercato allora al difensore, perché sembrava questione di vita o di morte, il difensore Paolo Maldini che risponde piuttosto che prendere qualcuno tanto per prenderlo io non sono d'accordo e preferisco continuare a lavorare, a far crescere Calulu e Cambia. Calulu è stato forse il miglior difensore del Milan dell'anno dello scudetto, 2021-2022, se la sera sono giocate a lui e a Tomori. Forse, a detta dei tecnici, forse Calulu ha fatto qualcosa anche di più, qualcosa di ancora meglio. Poi le due stagioni successive di Calulu non sono state sullo stesso livello, ma non è questo il tema. E poi nel gennaio 2024, io ricordo anche quel gennaio 2022, ricordo a un certo punto la vigilia di Mina a Roma, noi venivamo da un dicembre contrastato, c'era stato annullato il gol di Chessy con Napoli per il fuorigioco geografico di Giroud, avevamo vinto ad Empoli, ma in una partita non chiarissima che si era partito per la Coppa d'Africa, avevamo un po' di problemi. Poi ricordo quella vigilia meravigliosa di Mina a Roma dove arrivano le notizie di Covid per tre difensori del Mina, se lo sbaglio, fra cui Alessio Romagnoli. E va bene, ho detto va bene, allora avete vinto voi. E giocammo Mina a Roma con Calulu e Gabbia, difensori centrali. Ricordo che Giroud andò a parlare tanto con i due ragazzi, caricandoli e calmandoli, che fecero una bella... allora la Roma aveva Ebram in attacco, ma il migliore Ebram, Ebram in straforma, infatti ci fece gol, ed era uno spauracchio. Ricordo che tutte le volte che la palla arrivava dalle parti Ebram avevo paura in telecronica. Segno Ebram, vinciamo noi 3-1 e Calulu e Gabbia fecero la loro partita. Anche quello è stato un mattoncino per lo scudetto, molto importante, molto significativo. Altro che mattoncino, mattoncione. Poi il gennaio 2024, in cui abbiamo più o meno lo stesso problema, perché eravamo decimati in difesa. Nel 21-22, infortuna e legamento del ginocchio Chiaer. 23-24, infortuna in serie. Calulu, fermo da ottobre Napoli-Milan. Ciao, che si era fatto male in Milan-Borussia Dortmund a novembre in Champions League. Tomori, che si era fatto male a Salerno, nell'ultima partita prima di Natale. E quindi anche lì, attesa spasmodica del difensore del Milan, e il Milan risponde a questa attesa spasmodica con l'interruzione del prestito di Matteo Gabbia al Villareal. Apriti cielo, insulti, ci prendete in giro, siete incompetenti, le solite cose. Stefano Pioli, a gennaio di quest'anno, ha accolto Matteo Gabbia con queste frasi. Noi veniamo da mesi difficili, mesi contrastati, mesi duri, mesi polemici, mesi foschi dal punto di vista dell'ambiente e del clima. E Matteo, invece, che è stato in un altro ambiente, ha la testa fresca e libera per farci vedere come sono gli occhi liberi e le espressioni e il modo di vivere il calcio senza quello che abbiamo dentro noi. Ed era stata un'interpretazione molto raffinata, molto affascinante da parte del mister. Matteo Gabbia, noi pensavamo che fosse il solito, discreto giocatore che conoscevamo. E invece Matteo Gabbia, che è un ragazzo che ha il morso, lo stimolo, la voglia di capire, di comprendere, di crescere. Matteo Gabbia ha utilizzato i sei mesi del Villareal in prestito per capire fino in fondo come giocava Albiola, un professore dei movimenti difensivi, delle linee difensive, delle letture difensive. E il Matteo Gabbia, che è tornato dal Villareale, era un Matteo Gabbia più la maturazione al fianco di Albiola, più gli insegnamenti di Albiola. Ed è venuto fuori un difensore che oggi, quando non gioca, ne sentiamo la mancanza. E già, visto che non guasta, ci ha portato anche a casa la vittoria nel derby in casa dell'Inter, nello stadio pieno dei tifosi rinazzurri, gol segnato sotto la curva, la curva dei tifosi rossonè. Di Matteo Gabbia abbiamo parlato di recente, anche qui, quando si parlava del fatto che si sta lavorando ai rinnovi. Io personalmente, ma quello che dico io personalmente, conta zero. Conta di più quello che dicono i dirigenti del Milan, quello che ha detto Moncada. Gabbia è un giocatore che spesso passa sotto silenzio perché si è giusti, belli, liberi, dritti e illuminati se si recrimina su Calulu. Se invece ci si accorge di quello che abbiamo in casa, non va bene. E no, lì allora sei aziendalista e propagandista. Ma questo è il difetto? Perché mentre erano qui, se qualcuno provava a parlare bene di Calulu, Adlio o Daniel Maldini, era aziendalista. Poi quando vanno via ci si accorge che sono bravi, ah ma no, ma allora perché li abbiamo andati via? Ma quando erano qui, poi per carità, parlare e commentare è una cosa, le scelte sono scelte e hanno un peso diverso. Però è quando sono qui che bisogna accorgersi di quello che si ha, è quando sono qui che bisogna accorgersi di quello che abbiamo, è quando sono qui i giocatori che bisogna valorizzarli, spronarli e farli crescere. E questo spetta al Milan, spetta al club, spetta alla dirigenza, spetta all'area tecnica, spetta allo staff tecnico, spetta all'allenatore, spetta all'ambiente tutto, spetta a tutto Milanello. Non è una responsabilità dei tifosi, per carità. Però se mentre sono qui i giocatori proviamo a dar loro fiducia, magari succede poi che c'è una svolta come quella di Matteo Gabbia, che oggi ha rinnovato, cosa della quale sono molto felice. che io rivedo, insomma, in Matteo il milanismo, il milanismo di Filippo Galli, il milanismo di Giovanni Rodetti, il milanismo di Rino Gattuso, vedo quella passionaccia lì, vedo il fatto che non può giocare in nessun'altra squadra che non sia il Milan, perché è milanista, perché non è altro che milanista. Quindi, bene per il rinnovo di Matteo e adesso pensiamo in toto a Milan-Empoli. Grazie.